Sandra. Finito il dibattito, la parola torna a Marco Gatti per la replica. Qui ci vorrebbe una replica più lunga della relazione, perché dopo i tanti i contributi che sono pervenuti da voi e credo che saranno molto utili anche per la futura dirigenza del partito, ci sono tanti approfondimenti da fare. Parto da una battuta, a fianco di un grande uomo c'è sempre una grande donna, io vorrei dire che anche a fianco di un uomo normale c'è una grande donna, perché io mi sento un uomo normale e c'ho una grande donna. E per creare il futuro di questo Paese non abbiamo avuto bisogno della maternità surrogata, quindi vuol dire che la natura, forse se stiamo attenti a quello che ci traccia e lo seguiamo e lo difendiamo, probabilmente darà anche una prospettiva futura a questo Paese, altrimenti non so dove andremo a finire. Cerco di procedere un po' per punti, perché ne avete toccati tantissimi, però credo che i più importanti siano intanto il rapporto con le sezioni. Il rapporto con le sezioni è un tema che è dibattuto da sempre, da che io mi ricordi ad ogni congresso, nei momenti di tensione dei consigli centrali c'è sempre il tipo di rapporto che il vertice del partito deve tenere con le sezioni. Abbiamo provato diverse soluzioni, adesso se non ho segnato male, mi ho fatto un po' specie che uno dei responsabili che avevamo delegato per il rapporto con le sezioni ha detto che le sezioni sono state abbandonate, se lo dice lui vuol dire che sarà vero, però il problema del rapporto con le sezioni è la vera interrogazione che dobbiamo farci. Perché? Perché io credo che perdere un valore come quello che è dato da un'attività politica locale fatta dalle sezioni sia l'inizio della fine di un partito. Quindi se le cose non funzionano per il meglio non dobbiamo interrogarci come fare a magari assemblarle, metterle insieme, ridurle oppure addirittura superarle con altre situazioni. Bisogna pensare come questo strumento, che è il primo strumento per fare attività politica sul territorio, quindi per far crescere i giovani, perché i giovani per fare politica hanno bisogno non solo di studiare, magari di conoscere anche la storia, poi magari lo tocco dopo a questo punto, ma hanno bisogno anche di fare un'attività concreta, fare la formazione sul campo e le sezioni sono sempre stato queste in passato. Però la domanda che mi faccio io è perché non funzionano queste sezioni? Sicuramente non hanno più l'autorevolezza di un tempo e nessuno di noi, io per primo probabilmente non gli stiamo dando quell'autorevolezza, perché io mi domando quanti di noi qui dentro se hanno necessità di un dialogo politico oppure di chiedere un'attenzione su un problema particolare, pensa, mi rivolgo al segretario di sezione, il quale possa portare all'attenzione del partito il mio tema, la mia problematica. Questo non succede più da tempo. non succede più da tempo. Allora bisogna pensare se vogliamo che le sezioni funzionino, perché ormai quello che si è perso non si recupera più, oggi c'è un rapporto diretto. Se uno ha bisogno, siamo talmente piccoli che prende, va sul segretario di Stato, se siamo il governo, se non riceve risposte dal segretario di Stato va dal segretario di partito, quindi salta completamente quello che è un ruolo, che è quello del segretario di sezione e del direttivo di sezione. Allora se questa cosa non c'è più e credo che sarà difficile da recuperare, perché ci abbiamo provato e abbiamo visto che non funziona, come possiamo far sì che le nostre sezioni tornino a essere catalizzatrici di interesse per l'attività politica locale? Io credo che questo, che è un tema a cui io non ho la risposta, non vi so dare la risposta, ma penso che nessuno di noi qui dentro abbia la risposta immediata, debba essere uno dei compiti che la prossima dirigenza del partito deve affrontare e la deve affrontare cercando di portare una soluzione che possa veramente riattivare questo rapporto, perché altrimenti noi piano piano lo perdiamo, cioè le sezioni diventano soltanto il punto informativo, vengono utilizzate come momento di sfogatoio, magari nei momenti congressuali tesi oppure nei consigli centrali tesi, ma non più per fare un'attività politica locale, che credo che sia fondamentale, perché noi quando avevamo il governo delle sinistre siamo tornati al governo dopo tanti anni per la forte attività locale che facevano le sezioni, perché vincevamo il referendum, cioè riuscivamo a fare una grande attività, quindi secondo me questo è uno dei punti sui quali dovremo fortemente interrogarci. L'altra cosa che è stata toccata forte, credo che sia giusto, che sia così, è l'argomento giovani. Abbiamo detto che l'ADC fa fatica a catalizzare i giovani. Io non so, forse mi è successo solo a me, ma ogni volta che vado di sotto a ritirare il capotto mi trovo una ragazza diversa, anche una bella ragazza, che dico se avessi vent'anni la prima cosa che faccio mi faccio amico di Lorenzo, perché... E poi dove ti guardi in giro vedi veramente giovani, belle ragazze, ma anche bei giovani, quindi forse non è così proprio questa la verità. Il problema vero è che questi giovani, intanto è importantissimo che si sono avvicinati, quindi io credo che un movimento giovanile che aveva avuto un buon lancio, poi ha avuto un momento di difficoltà, come succede, perché queste cose qui succedono, dobbiamo anche pensare che possano succedere in prospettiva. Oggi si sia rilanciato con dei giovani che hanno un'attenzione verso il partito. Dobbiamo interrogarci come fare quella cosa che loro giustamente chiedono e che noi abbiamo fatto solo in parte, poi vi dirò perché abbiamo fatto solo in parte, che è l'aspetto formativo, perché l'aspetto formativo è determinante anche per la continuità del partito, perché se i giovani sono formati bene portano avanti quei principi, quei valori per i quali è nato il partito. Se non sono formati bene probabilmente rischiano di diventare il populismo dentro la democrazia cristiana, perché il rischio ad esempio che hanno i movimenti, o meglio il rischio, quello che sono i movimenti è questo. Ci hanno dei giovani ma neanche così tanto giovani, perché se andiamo a vedere comunque sono tutti giovani sopra i 30 anni, 30 fino a 40, 45, neanche anni giovanissimi, perché giovanissimi è difficile catalizzarli a un'attenzione alla politica. Però dal mio punto di vista quello che noi dobbiamo fare è avviare questo processo formativo. Io mi sembra di ricordare che Pasquale lo aveva iniziato con il movimento giovanile, iniziando ad un approfondimento di che cos'è la democrazia cristiana, perché è nata, come è nata, la sua storia, i valori, perché difende certi valori, perché è importante sapere perché li difendiamo. E questa cosa qui io sinceramente non sono riuscito a farla, è un mio grande difetto. Io non sono riuscito a curare questa parte formativa. Avrò mille ragioni, mille scuse, però è una grave pecca, perché effettivamente a questi ragazzi questa parte qui è mancata. E allora alle volte magari quando arriva anche qualche critica che ci dice ma sono un po' povere di contenuto sulla storia del partito, oppure sui nostri valori, la colpa è la mia, perché io non sono riuscito a fare questa cosa qui. Abbiamo fatto diciamo una parte formativa più legata al quotidiano e al lavoro, li abbiamo inseriti nelle commissioni, quindi gli abbiamo dato un'esperienza sul campo, nelle segreterie di Stato, nelle varie commissioni che abbiamo nominato. È stato un lavoro non semplice, perché quello della rotazione era un principio che in questo partito non c'era, che per introdurlo è stato complesso e io non mi sono candidato anche per quello, perché come diceva qualcuno prima, bisogna dare l'esempio. E allora se diciamo facciamo due mandati e poi si ruota, bisogna fare due mandati e poi si ruota e bisogna dare l'esempio che si fanno queste cose, anche perché io sono convinto che abbiamo delle persone capaci che sono in grado di sostituirci, perché in questi anni abbiamo seminato e quindi delle persone il partito ce le ha. Però io credo che questo sia un aspetto veramente importante in cui anche qui avviare quel processo di formazione che non è soltanto sul campo, ma è anche diciamo di culturale, quindi di conoscenza della storia del partito e dei suoi valori, credo che sia fondamentale per dare continuità al partito, perché altrimenti poi è un partito che rischia di perdersi e di correre dietro soltanto al consenso e non di difendere quello per cui ha ragione di esistere un partito. Vi vorrei fare un esempio che io non so se voi avete notato, perché alle volte si parla di rinnovamento, tanto forte di rinnovamento, però è anche qui importante capire perché è importante la formazione, e questo forse è l'esempio della formazione. Abbiamo avuto degli interventi iniziali, uno di Matteo Ciacci, un ragazzo pieno di sé, che è venuto qua molto bravo nel comunicare, nel gesticolare, nel lanciare le cose, urlando a destra e sinistra, però io non so quanti di voi hanno cercato poi alla fine di tirare la sintesi del suo intervento, a me è sembrato, almeno a me non è arrivato un contenuto da quell'intervento, anzi, mi è sembrato che è arrivata una reazione a quello che forse può essere stata anche una provocazione della mia relazione, ma siamo in un congresso di un partito che è all'opposizione e che non è al governo con loro, e quindi è venuto che fare un comissio, non è venuto che portare un indirizzo di saluto. E lo contrappongo a uno di cui, da che io ricordi, fa sempre politica, Giuseppe Morganti. Giuseppe Morganti ha ascoltato lo stesso tipo di intervento, però ha fatto un intervento di contenuto, può anche non essere condivisibile tutto nei suoi passaggi, però rispettoso, però rispettoso di un partito, quindi sa in che contesto si trova. E allora, i giovani della democrazia cristiana, che in parte oggi ma soprattutto domani saranno classe dirigente, devono essere in grado di stare nei contesti in cui si troveranno. Devono essere in grado di non cadere nelle provocazioni, perché ci vuole il sangue freddo, non ci si può fare provocare, perché poi si esce dal contesto in cui ci si trova, e i contesti in cui ci si trova sono molteplici, perché sono quelli come invitati a portare un saluto a un congresso del partito, ma sono anche quelli istituzionali, quando si rappresenta un paese. E quindi è importante sapere che in quel momento non si è Marco Gatti o Matteo Ciacci o Giuseppe Morganti, ma si rappresenta o un partito o un paese. E questo è una delle cose più importanti che dobbiamo assimilare attraverso un processo formativo. Quindi assolutamente sì, ha un grande impegno e vedrò di fare quello che posso anche io, che non ho fatto prima, quindi mi assumo questo onere, perché mi sento in difetto in questo, per cercare di portare quel poco che ho, quel poco che posso dare. Allora, sono stato un po' contestato perché ho difeso troppo le scelte che abbiamo fatto nel passato governo. Ho seminato troppa positività, mi ha detto qualcuno. Io ho cercato di fare un'analisi obiettiva anche in coerenza con quello che abbiamo detto, penso tutti, di volere essere. Un partito ha ancorato la realtà. Allora, io capisco che il risultato elettorale sia anche il frutto di scelte che la popolazione non ha condiviso o ha digerito male. Si è parlato della riforma IGR, si è parlato di un'imposta sugli immobili, su una patrimoniale che abbiamo dovuto introdurre per tamponare un momento di difficoltà in cui c'era un crollo delle entrate, si è parlato della minimum tax e ce ne sono state tante altre di queste scelte. Però, se noi non le avessimo fatte oggi, era ancora in piedi San Marino? Era ancora libero San Marino? Io sono convinto di no. Perché se noi andiamo a togliere gli introiti che ci hanno permesso di fare il ponte per la riforma IGR, noi non ce l'avremmo fatta. Noi la crisi di liquidità che abbiamo sempre avuto a quest'ora avevamo già il debito estero. Quindi io credo che certe scelte vadano difese e vadano spiegate alla gente se non le ha comprese, perché se abbiamo perso le lezioni per questa cosa non è che dobbiamo negare quello che abbiamo fatto se è una cosa giusta e che andava fatta. Perché credo che nessuno di noi, io per primo, che mi si viene a dire ti faccio pagare un po' più e che deve trovare un equilibrio in tutte queste cose e un'equità in quello che è un prelievo per poi ridistribuirlo. E io credo che le cose che noi abbiamo fatto abbiano seguito questi principi. Cioè, mi piacerebbe confrontarmi con tutti quelli che le contestano, e lo abbiamo fatto in tante serate anche pubbliche, perché mi si dimostri che queste cose non sono state seguite. Allora io credo che un partito come il nostro, se vuole essere aderente alla realtà, deve essere consapevole che ci ha fatto perdere consenso e probabilmente non ci ha sicuramente aiutato alle elezioni. Però era una cosa che andava fatta. E allora un partito deve essere anche disponibile a perdere le elezioni per fare il bene del Paese, perché altrimenti è un partito che vive fine a se stesso e non vive per il Paese. E quindi prima o poi quello che non ha deciso o le decisioni che ha fatto in maniera errata gli torneranno tutte contro, perché poi il Paese i problemi li troverà raddoppiati e triplicati. E alla fine il conto lo paga lo stesso, lo paga assalato e sarà molto più dura per i cittadini. Quindi io credo che quello che noi abbiamo fatto sia giusto difenderlo e sia giusto spiegarlo soprattutto, perché va difeso spiegandolo, però per questa ragione, perché diversamente questo Paese non avrà futuro. E il nostro ruolo di opposizione non deve essere un ruolo di urlare perché ci può far comodo adesso, magari perché fanno un provvedimento che può essere impopolare. Se il provvedimento è buono e serve, lo dobbiamo difendere anche noi. Ma se il provvedimento non sta in piedi, è chiaro che dovremo fare la nostra parte e proporre dei controprovedimenti. Perché noi siamo un partito, l'avete detto tutti, che è capace anche di elaborare e quindi non limitiamoci soltanto a dire quello che non ci piace, ma proponiamo anche al Consiglio e al Paese le cose che secondo noi sono utili e il nostro programma di governo ne riporta veramente tantissime. Sul discorso degli errori. Abbiamo fatto tanti errori, questo qui è vero, però io non condivido con chi dice. Chiaro, io nella mia relazione non ho voluto appositamente entrare nel merito dei singoli errori, perché nei singoli errori poi si iniziano a identificare le persone e questo qui non va bene, però ho voluto indicare gli effetti. Ma gli errori sono prevalentemente quando non si è coerenti. Perché se noi diciamo una cosa e facciamo il contrario, la gente non ci capisce più e quindi perdi di credibilità. Ora, l'incoerenza quando è? L'incoerenza è quando noi in Consiglio Grande e Generale abbiamo di fronte dei temi etici e qui non ho sentito nessuno che si è espresso il contrario. Cioè, a me piacerebbe capire, noi siamo a favore della vita o no? Siamo a favore dell'aborto o no? Siamo a favore dell'eutanasia o no? Siamo a favore del matrimonio delle coppie gay o no? Cioè, questa cosa qui, dagli interventi sembra che siamo contrari a tutta sta robaccia qui, però in Consiglio Grande e Generale ci sono venuti a meno dei voti. E allora, adesso, io non so se i temi erano questi quando prima parlava Alessandro, però noi abbiamo uno statuto e un codice etico. bisogna essere fedeli a quello statuto e quel codice etico, perché altrimenti vuol dire che non si può militare in questo partito perché si è sbagliato il partito, a meno che il partito non decida che non sono più temi prioritari, non sono più i suoi temi e quindi cambia il suo statuto e il suo codice etico. Perché su questi qui non è vero che c'è la libertà, perché se no non si può stare qui dentro. E allora, quello che io ho sempre chiesto nello scorso Consiglio dove li abbiamo affrontati, adesso questa volta ne avremo un sacco, se qualcuno è contrario lo dice al microfono, così che i garanti possano fare il loro lavoro. Perché io credo che sia giusto che sia così. Altrimenti noi perdiamo l'essenza del nostro essere. E un partito non vive soltanto di economia, di soluzioni economiche, perché le soluzioni economiche si basano sul suo essere, perché seguono quello. E allora io credo che sia importante, se dovessimo mettere in discussione quello, farlo, ma farlo seriamente, in maniera aperta e non dire che su certi temi c'è la libertà, perché nella democrazia cristiana non c'è la libertà su quei temi. E io dico, questo sicuramente ci ha segnato. Un'altra cosa che ci ha segnato, noi abbiamo lavorato come partito molti mesi col settore bancario e finanziario, perché quando è iniziata questa lotta tra, da una parte il soggetto regolatore e dall'altra le banche, noi abbiamo cercato di svolgere un ruolo, i nostri membri di governo tutti hanno cercato di svolgere un ruolo, che era quello di mettere al tavolo le parti e di dire, dobbiamo trovare una soluzione comune, non è possibile che qui si vada tutto o solo da una parte o dall'altra. Quello che non vuol fare questo governo, perché me l'ha detto Simone Celi l'altra sera in trasmissione, che loro fanno quello che dice Banca Centrale, è sbagliato, il ruolo del governo è quello di dire, ci si parla, ci si mette tutti attorno a un tavolo e si trova una soluzione comune e condivisa. In quel momento lì, in cui c'era, perché dentro il settore bancario e finanziario c'è una lotta di poteri, perché c'è una diatriba, perché c'è una lotta di poteri e la politica sana non deve prendere le parti di nessun potere, ma li deve mettere al tavolo e trovare l'equilibrio, perché l'equilibrio è quello che fa stare in piedi il sistema bancario e di conseguenza il sistema economico. Noi abbiamo fatto una scelta di partito di cui la lettura è stata contraria, perché da noi giorno dopo nessuno parlava più con noi del settore bancario e finanziario. Quindi non è stata una lettura coerente con tutto il lavoro che era stato fatto prima. Noi lì siamo ripartiti da zero, cioè il lavoro di tanti mesi è stato zerato. Queste cose qui sono incoerenze che ti segnano, ti fanno ripartire, poi si può recuperare, però ti riazzeri. Di queste cose ce ne sono state tantissime, anche più piccole. Alcune sono anche naturali, non sono neanche volute, però sono le cose alle quali secondo me in un futuro dobbiamo stare attenti. Prima di prendere una scelta, indipendentemente dalle amicizie, qualcuno di voi lo ha detto prima, dalle amicizie, dai sentimenti personali, noi dobbiamo essere capaci di estragnarci, così come quando facciamo le nomine, e di dire qual è la cosa migliore per il partito. Perché ogni cosa ha una conseguenza, quindi quella cosa che decidiamo, che conseguenza avrà sul partito, cosa porterà, è la cosa migliore? E allora scelgo. E dobbiamo scegliere, perché siamo chiamati tutti a scegliere. Poi se sbagliamo abbiamo fatto un errore, però dobbiamo farlo in coscienza. In coscienza si fa così, si cerca di capire dove ci può portare quella scelta e si sceglie, lasciando perdere quelli che sono anche le nostre, come posso dire, le nostre amicizie, i nostri sentimenti personali, perché quelli non ci fanno essere obiettivi, quelli ci possono far fare più facilmente la scelta sbagliata. Questo secondo me è un altro aspetto sul quale dobbiamo esercitarci tutti. Mi sono perso, qua ho un sacco di cose. Un passaggio lo voglio fare perché è stato lanciato, anche se non colto il discorso del cambiamento del nome, del simbolo. Io penso che il problema non sia avere un nome sibrio, sinceramente non mi sono mai vergognato, non mi vergogno, neanche i miei figli si vergognano di dire che sono per la democrazia cristiana. Per quale ragione? Perché sono stati educati a una certa strada di vita e quindi chiaramente vedono nella democrazia cristiana un partito che punta a raggiungere quegli obiettivi. Poi non ci riuscirà, farà fatica a raggiungere, però ha quell'obiettivo lì e quindi non ha questo timore di dire se non è così come io non mi vergogno di dire che sono cristiano. Non è questo il problema perché poi le scelte che noi dobbiamo fare sono scelte laiche, noi non siamo chiamati a ragionare confessionalmente in Consiglio Grande Generale, nessuno l'ha mai fatto questa cosa, però dobbiamo ragionare su cose meglio per l'uomo. Questo è quello che dobbiamo fare. Io condivido il passaggio che diceva prima Pasquale. Il problema vero è che oggi sono in discussione i principi. I principi se vengono derogati vuol dire che non sono più principi. E se non sono più principi dipende dove tu metti l'asticella, perché se è principio non ce l'ha l'asticella, quello va difeso e va preservato. Se invece c'è l'asticella, a seconda del governo la può mettere più in su, più in giù, ma non è più un principio. Allora, secondo me, il dibattito magari su questi temi cerchiamo di portarlo anche prossimamente, anche in un Consiglio centrale, perché dal mio punto di vista il nostro partito deve essere protagonista di proposte su problematiche che la società ha, tipo quello delle coppie dello stesso sesso, deve essere protagonista perché deve essere in grado di portare quelle soluzioni che sono rispettose dei suoi valori e dei suoi principi. Ed è possibile. Abbiamo le teste, abbiamo dei gruppi di lavoro che stanno facendo questa cosa qui. Io adesso chiudo perché sennò ve la faccio veramente troppo lunga. Allora, intanto mi dispiace che non sei più, volevo fare un ringraziamento a Luca che è stato il mio vice segretario e mi sono accorto che nella relazione ho ringraziato tutti tranne lui. Faccio ammenda, alle volte si scrive perché dici così non mi dimentico niente, l'ho completamente dimenticato. Faccio anche un saluto a Filippo Tabagnini e a tutto l'ufficio di presidenza che hanno condotto veramente bene questi lavori. Faccio un saluto a tutte le ragazze, a tutti coloro che hanno lavorato nelle commissioni, a tutti i ragazzi, cioè siete stati veramente magnifici, tutto ha funzionato per il meglio ed ho solo una battuta a Filippo Tabagnini. lui ha detto che si siede sempre in seconda fila perché in prima fila è sempre tutto occupato ragazzi.